Grazie a tutti di Human Technopole che ci avete accolto, grazie a Tre Cani Futura, io sono Cristian Raimo e vicino a me c'è Simone Arcagni, abbiamo provato a immaginarci questa giornata insieme a un sacco di persone che sono qui appunto da Marica Nobile, Francesca Malverti, Andrea Signorelli che ha parlato prima, Marco Simoni che era il precedente direttore qui di Human Technopole, il presidente di Human Technopole e abbiamo provato a mettere insieme quello che stava dicendo adesso il professor Verona proprio cioè un incrocio, un dialogo tra campi disciplinari, i campi disciplinari delle humanities e delle scienze che definiamo scienze più dure in realtà sono già in dialogo, dialogano in continuazione, dialogano soprattutto come metodi e come forme di ricerca e quindi quello che proveremo oggi in questa giornata a fare è a valorizzare e a condividere quello che già esiste in molti campi di ricerca. C'è un racconto di Achille Campanile che si chiama Orator Fit che dice ma in qualunque occasione pubblica se uno deve dire qualcosa deve dire che questo non è un punto d'arrivo è un punto di partenza e io penso che sia esattamente soltanto un punto di partenza oggi nel senso che tre cani futura e Human Technopole stanno cominciando a essere qualcosa, sono due cose, due entità che stanno nascendo in questo momento e quindi anche rispetto a quello che è stato appena detto un po' che cosa diventeranno ce lo dobbiamo immaginare insieme e quindi a me fa molto piacere che non soltanto appunto chi interverrà oggi nella giornata, adesso ci saranno Angelo Bassi, Paolo Peceri e poi via via fino a Milorau nel tardo pomeriggio ma tutte le persone che stanno qui oggi, tutte le persone che fanno parte di Tre Cani Futura, di Human Technopole possono dare il contributo a dare un'identità a queste due entità e anche appunto a che cosa sarà la ricerca appunto in futura io ringrazio davvero tutti, Simone come è andata? Io ho una parola sola, hai citato un pezzo di letteratura, ne cito uno anch'io in un racconto di Edgar Allan Poe, il giocatore di scacchi di Melzel Edgar Allan Poe fa il giornalista e va a vedere questo automa, Melzel era uno dei grandi orologiai e tecnologi del Settecento lo va a vedere perché questo giocatore autonomo, un robot, riesce a giocare a scacchi poi guarda meglio e vede che dentro l'automa c'era un piccolo uomo nascosto negli specchi che girava le manovelle questo che cosa ci dice? Lezione 1 che l'uomo ha sempre cercato di fregare gli altri in un modo o nell'altro lezione 2 che è quella per me più importante è che dentro ogni tecnologia c'è un uomo cioè ogni tecnologia nasce con dentro un uomo ecco Bruno Latour, il filosofo recentemente scomparso, reclamava il fatto che in un famoso libro non siamo mai stati moderni, la nostra modernità non c'è potuta essere perché non abbiamo mai riconosciuto l'uomo nelle tecnologie abbiamo cominciato a studiare la scienza e la tecnologia come qualcosa di esterno qualcosa che non ci apparteneva tutto questo per dire che quando abbiamo cominciato abbiamo invece provato a mettere le basi per qualche cosa di diverso abbiamo provato a dire l'uomo e la tecnologia sono la stessa cosa sono, nascono nella stessa origine, hanno lo stesso DNA dobbiamo provare a trovare il modo per far dialogare chi guarda questo uomo da punti di vista diverso ecco questo palco potrebbe essere un ottimo avvio speriamo di sia, anzi sono convinto che sia così sia io che Simone insegniamo, molte delle persone che stanno qui insegnano oltre a fare ricerca e questo visto che oggi ci sono diversi studenti è anche per noi una funzione civile, politica nel senso più alto del termine e quindi l'idea di cosa vuol dire oggi la responsabilità di condividere i saperi insomma ci sta particolarmente a cuore buona giornata, grazie davvero a tutte le persone che sono intervenute fino adesso e anche quelle che interverranno dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti